Il menù è ricco e variegato, a seconda che si decida di andare a piedi o usare la bici, comunque scegliendo la strada di una vacanza attiva. Il tutto con la prospettiva che 10 grandi tour operator sposino il progetto immettendolo sui circuiti internazionali specializzati. A dare corpo a questa idea, la seconda edizione di Active Abruzzo, l'evento dedicato alla promozione del turismo attivo organizzato da CNA Turismo Abruzzo in programma da oggi al 12 ottobre prossimo. Un'iniziativa che vuole mettere in risalto la qualità della vita che si può vivere, si può avere qua in Abruzzo attraverso un turismo che fa conoscere dall'interno e quindi fa vivere proprio come era una volta i nostri territori, i nostri borghi, i nostri paesaggi. L'evento realizzato con la direzione tecnica di Bike Life Live Your Passion vedrà in Abruzzo la presenza di 10 grandi tour operator internazionali provenienti da Italia, Francia, Spagna e Stati Uniti che esploreranno Palmo. A Palmo il territorio regionale in due distinti tour destinati a trasformarsi in altrettanti pacchetti turistici, iconico e culto. Cerchiamo di portare sui mercati nazionali e internazionali dei pacchetti che possono valorizzare l'Abruzzo, in maniera particolare il turismo interno e anche il turismo costiero. In una parola io direi turismo sostenibile, ecco queste sono le cose su cui dobbiamo puntare anche alla luce delle risorse sia del PNRR che della nuova programmazione 21-27 e quindi ben vengano iniziative come Active Abruzzo. Il primo propone un lancio con il parapendio su Rocca Calascio prima della visita a Navelli, il borgo dell'Oro Rosso d'Abruzzo, la via ferrata di Campo Imperatore con la sosta al bivacco Bafile e l'escursione a Castel del Monte, il borgo dei film, le suggestioni dei cammini di Celestino sulla maiella occidentale compuntate agli ermi di San Bartolomeo in Leggio e Santo Spirito. Per chi invece scegliesse le due ruote il percorso ha pronti come assaggio i 70 km della strada maestra del parco dall'Aquila a Teramo prima di una sosta a Campli, il borgo spirituale e a Civitela del Tronto con la sua fortezza borbonica. Poi la via viscerale Piceno-Prutina che da Castilenti nel Terramano conduce a Pianella nel Pescarese con vista sul mare e sui monti prima della sosta a Chieti. La strada del vino e delle colline Tiatine per 40 km da Miglianico a San Vito e Chietino con tappe finale alla città del vino per eccellenza, Tollo ed Accrecchio con il suo castello. Certo è che è opportuno che ci sia un discorso di valorizzazione nel mondo dell'embrise e dell'economia la quale chiaramente è in grado di creare benessere. Benessere che è distribuito non per pochi ma per tutti ciò che si cimentano nella realtà di promozione dell'intero territorio.